Senta, non voglio che quel pagliaccio cada dal tetto della casa. Non sarebbe una grande perdita. Non mi sto preoccupando per lui, ma per la mia antenna. Hai sentito, Domino? Se rompi quella parabola, ti giuro che non ti darò mai più lo stipendio e che dovrai ripagare il danno mettendo i tuoi soldi. D'accordo, va bene, capo, stai tranquillo, non la farò cadere. E comunque come farei a ripagarla se non ho un soldo? Dunque, una fascetta al posto di una vite qui dietro. Fatto. Una dovrebbe bastare. E invece del cavo dell'antenna, per risparmiare i suoi materiali, useremo un cavo normale come al solito. Aspetta, ma che sta succedendo lì?